...che abbiamo in corso anche un'udienza del Papa che ha avuto diverse cose interessanti da dire. ...che abbiamo in corso anche molto bene l'italiano. Quindi poi nelle domande... ...vaticano non c'è un'attività, quindi non è possibile che... ...i venire qui e aprire una banca... ...e andare fuori, e il prossimo giorno viene dal Ticino... ...e prendere una piaccia... I mean, you know, we have to stay here a little bit with the facts.